Sono trascorsi esattamente 100 anni dall'eroica notte del 24 ottobre 1915 che valse la medaglia d'oro al valore militare al nono reggimento fanteria Bari, distanza a Trani. Ieri i festeggiamenti alla presenza delle autorità civili e militari. Sono stati ricordati ieri i 100 anni dalla terza battaglia dell'Isonso sul monte San Michele dove durante la prima guerra mondiale i bianchi fucilieri del nono reggimento opposero un'eroica resistenza al nemico. La festa di corpo si è tenuta presso la caserma Lollighetti di Trani, sede del nono reggimento, alla presenza del prefetto della provincia Bat, Clara Minerva, del sindaco di Trani Amedeo Bottaro e del comandante della brigata meccanizzata Pinerolo, il generale di brigata Gian Paolo Mirra. In particolare il comandante del nono reggimento, il colonnello Ciro Chirico, con la bandiera di guerra ed il reggimento in armi, ha rievocato gli eventi bellici così come furono annotati sul diario di guerra dell'epoca. Ed è stato esposto il drappo tricolore macchiato del sangue del gruppo bandiera che nella notte del 24 ottobre 1915 venne colpito da una granata nemica. In questo drammatico contesto il coraggio fino all'estremo sacrificio dei bianchi fucilieri è valso la concessione della più alta onorificenza, la medaglia d'oro al valor militare, alla bandiera di guerra. Dal 1734 il nono reggimento fanteria Bari ha partecipato a tutte le campagne di guerra più importanti, impiegando in questi ultimi anni il proprio personale alle operazioni nazionali ed estere, tra le quali Albania, Kosovo, Afghanistan. Un reggimento proiettato nel futuro che aderisce all'importante progetto di digitalizzazione della Forza Armata, ma che mantiene vive le tradizioni di un glorioso passato. Nell'occasione della festa di corpo hanno preso parte i familiari del personale del nono reggimento, le associazioni combattentistiche ed alcune scolaresche della città di Trani.